No, 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 Lollo, stavolta non ce la faccio, non ce la faccio. Dai, muoviti, fai la solita intro, non rompere i coglioni. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati, siamo tornati con Imbino Veritas. Adesso oggi abbiamo un ospite super speciale, cioè almeno io sono un po' emozionale. Ah, io uguale, non mi metto un cazzo stanotte. È tipo esame universitario dopo un po' di anni. Sì, si è stati svegli fino alle 2, a scrivere le domande, a pensare, quindi proprio due esauriti. Io vi ribadisco che non ce n'era bisogno. Perché? Perché? Prima ci hai detto perché? Perché non ce n'era bisogno? Perché? Perché la faccio come tutti. Quindi, se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, perché non avete riconosciuto la voce, parliamo di Vincenzo Donatiello. Per i pochi che non sanno chi è, stiamo parlando di sommelier, responsabile di sala, di Piazza Duomo, ristorante a tre stelle Michelin tra i 50 migliori ristoranti del mondo ad Alba. Eh, niente, io sono già bloccato. Noi abbiamo la lista di domande pronta lì, quindi proprio perché avevamo paura di bloccarci oggi. Esatto. Ma prima delle domande vi dico una cosa, che è scritta anche nella mia biografia del mio micro che appena uscito, che io mi tengo un tamarro prestato all'alta ristorazione. Ah, questo ci piace. E lo dimostreremo anche facendo vedere la maglia con cui ci hai presentato, perché è veramente tamarra. Non è che... Carlo Magno però, oh, Carlo Smagno. C'è anche un regalo dei miei ragazzi che mi hanno fatto un voucher per una boutique di Alba e quando sono entrati ho visto questa febba, non dirò la marca, ma è molto grossa, è stata poco amore a prima vista proprio. Che grande. E quindi niente... Cominciamo subito, magari dai, introduciamo un attimo la figura che abbiamo davanti, quindi, chiediamo a te, Vincenzo, magari di parlare di chi sei, perché sei molto giovane, no? E già lavori... Molto togliamo la destra, sono giovane. Vabbè, tu hai 35 anni, noi abbiamo 30, quindi siamo giovani, dai, siamo giovani. Allora, chi sono? Io appunto da qualche anno, oramai quasi 8, mi occupo della gestione della sala e della cantina del ristorante Piazza Goma d'Alba, 3 Stelle Michelin, siamo costantemente da 7 anni tra i migliori 50 ristoranti del mondo, però come ho detto prima non mi ritengo un superman della ristorazione, sono una persona che ha fatto, continua a fare quello che gli piace e ci mette tutto il possibile. Come ho detto spesso, visto che tanti vanno fuori dall'Italia e poi tirano merda sul nostro paese, se ha 35 anni, sono già 8 anni che faccio questo lì, vuol dire che un minimo di meritocrazia in questo paese c'è, se vogliamo cambiare le cose cambiamole da bene. Oh, finalmente qualcuno che non sia un maledetto esterofilo, che ci parla sempre di quanto siano belli e bravi gli altri, solo belli e bravi gli altri. Oddio, io sono esterofilo su una cosa, io bevo al 90% borgogna. Vabbè, cazzo, allora è chi io sono esterofilo. Se avessi la possibilità che io berrei solo borgogna, grazie a cazzo. No, no, ci mancherebbe, grande. Il libro che ha scritto, che è appena uscito, che si chiama Io Servo, ok, io ve lo consiglio veramente in maniera proprio fortissima perché spiega proprio tutto quello che c'è dietro una persona del genere. E io leggendolo ho avuto anche, io occupandomi, mi occupo di marketing, anche io ho a che fare con clienti, con aziende, ma anche con ristoratori. mi rendo conto di quanto possa essere utile non solo per chi vuole lavorare nella sala, ma anche per chi lavora generalmente con i clienti e deve farli sentire un po' a casa, deve accoglierli in qualche modo. Ci sono delle parole comunque che mi hanno... Perché poi devi vendergli qualcosa anche a te, non è che... No, beh, cioè, quindi comunque fa tutto parte del... no, di entrare in empatia con la persona. Sì, esatto. Per comunque cercare di proporgli e trovargli un servizio adatto e comunque riscire a vendergli. Perché la persona si accontenta, perché poi il marketing oggi più che mai, adesso poi ritorniamo a parlare di ristorazione, si basa sulla fidelizzazione. Quindi fidelizzazione non è in maniera fredda, cattiva, brutta, no, è in maniera di proprio accoglienza. Quindi in questo senso per me il libro è stata veramente una scoperta proprio di formazione per me stesso. Quindi compratelo assolutamente, veramente lo diciamo a cuore aperto. Noi l'abbiamo comprato, ci siamo posti al faccio regalare, giustamente, no? Cosa dici? Sì, no, abbiamo deciso di comprarlo. Bravi, bravi, compratelo. Poi Vincenzo ci ha voluto anche regalare due copie ulteriori per noi, quindi questo ci fa molto piacere. Però volevamo, comunque sapendo poi che è stato tutto autofinanziato. Quindi ci faceva anche piacere un po' sostenere la cosa, perché comunque sia, è giusto anche, no? Assolutamente, assolutamente. Adesso entro a gamba tesa perché avete detto una cosa giusta, nel senso vuol dire che il messaggio del libro sta arrivando. Il fatto della fidelizzazione, il fatto dell'accoglienza. Io quando ho finito il libro, poi l'ho rivisto svariate e svariate volte, ho pensato che questo libro è sì rivolto a chi vuole fare il cameriere in maniera seria, è rivolto a chi lavora con il pubblico e c'è anche un altro risvolto, è rivolto anche ai clienti, perché possano capire cosa ci spinge a fare questo, cosa ci spinge a dedicarci completamente all'accoglienza. Quindi sono contento veramente che il libro abbia, cioè, che il messaggio sia passato. Più che contento, visto che abbiamo detto che dobbiamo essere anche un po' più punk, a cazzo duro. Sì, cazzo, grazie. Ok, Vincenzo ha capito perfettamente qual è il mood di Invino Veritas, questa cosa ci fa veramente piacere. Perché poi, appunto, noi ci immaginiamo, l'immaginario collettivo del sommelier di altissima ristorazione, come sei te, e oltretutto anche responsabile di salto, cioè, quindi non è che sei lì solo a sbicchierare, cioè, c'è una figura molto importante, ovviamente, di questo ristorante. L'immaginario collettivo, no, è persone con capello brizzolato, ora tu ne hai pochi, quindi il problema non c'è. Sono brizzolatissimi, però. Però non si vedono, quindi va bene. Siamo tutti e due, comunque, eh. Siamo tutti con pochi capelli. No, esatto. Da parte te, che sei un chioma folta. No, e quindi poi anche, no, un po' spocchiosi, delle volte, no, capita un po' di trovare queste persone un po' più grandi, che si sentono delle personalità importantissime. Ecco, lì comunque si perde il senso dell'accoglienza, cioè, il palo nel culo è l'antitesi del poter far sentire a casa una persona. Io ti amo. Ve l'ho detto che era un tamarro. Il discorso è questo, appunto, cioè, molte volte c'è questo tipo di situazione qua del troppo formalismo, del voler a tutti i costi imporre delle scelte a un cliente, quando invece siamo lì per lui. E quindi bisogna imparare ad entrare in sintonia col cliente. Il segreto è uno, non pensare da cameriere, in quel caso lì, ma pensare da cliente. È l'unica via. Ah, questo, eh, per me è bellissimo. C'è una parola che, eh, infatti, tra l'altro, vabbè, a parte tutto il libro parla di questo, parla di empatia, no? Se l'empatia la usiamo tutti i giorni come fosse una parola qualsiasi, ma entrare veramente in contatto, in ascolto attivo, cioè, vuol dire capire che cosa sta desiderando il cliente, e non è una cosa scontata, perché non te la viene a dire spesso, ma sei tu che devi capirla, giusto? Mi confermi? Assolutamente sì, devi essere in grado in pochi momenti, riuscendo a leggere la situazione, poi ci sono i trucchi del mestiere, no? Delle volte basta veramente poco, l'ho già detto in un'intervista qualche anno fa, adesso non possiamo farlo più, però magari una volta un cliente entra, ti cerca, vuole stringerti la mano, e già dalla mano puoi capire tante cose, una mano che lavora, una mano che non lavora, e quando entra in sala, dove guarda? Guarda verso il suo tavolo, guarda verso gli altri clienti, guarda com'è l'arredamento, cioè, riesci a capire tante cose da questo punto di vista qua. Questa è una figata, perché veramente, vedi, qui entra in gioco anche tutte quelle questioni di neuroscienza, proprio di analisi, di microespressione. Qui tu sei un appassionato studiatore. E tanto lavorando nel marketing, più che altro nella pubblicità mi rendo conto che devo prestare attenzione a come viene posto un messaggio, perché cambia da così a così, cambia completamente. Quindi è una cosa stupenda, secondo me, proprio il fatto di trovarsi davanti una persona che riesce proprio a cogliere, a capire che cosa sia, e insegnarci a noi che cosa sia l'accoglienza tutto tondo, vuol dire la comprensione totale delle persone che si hanno davanti. Questo tra l'altro era una cosa che ci raccontava a una lezione dei vari corsi da sommelier che abbiamo fatto anche noi, e Roberto Gardini, che poi so che è stato anche lui un tuo maestro. Maestro, assolutamente sì. E infatti anche lui ci raccontava molto di capire il cliente tramite anche dei piccoli atteggiamenti. Lui ci aveva raccontato la storia dove un cliente gli aveva chiesto lo champagne col ghiaccio dentro, e però ha detto, questo era uno che stava bene, era con un paio di ragazze, e non lo potrei mai andare a contraddire, nonostante io mi davo le coltellate nel cuore per l'idea di mettere del ghiaccio in uno champagne da 500 euro, però ha detto lo devi fare, insomma. Assolutamente sì, sono quei piccoli compromessi che fanno la professione, però sono quei piccoli dettagli che poi anche quel cliente che magari appunto ha voluto fare una cosa o ha chiesto qualcosa che esce fuori dai canoni, si ricorderà. E l'importante è quello, che il cliente poi si ricordi di te, si ricordi del posto, si ricordi dell'accoglienza e si ricordi di essere stato bene. È l'unica via. Ecco, a proposito, adesso siamo andati a parlare anche dei sommelier, no? Allora, c'è una faida che ormai gira da diversi anni, un po' da quando i social, o comunque i canali social si sono cresciuti tanto, anche come proprio piazza per la comunicazione del vino, della ristorazione in genere. E la cosa che si vede è un po', c'è questo scontro tra una vecchia scuola, chiamiamola, e una scuola nuova di comunicazione, no? Che diciamo, in generale è formata un po' la vecchia scuola dai giornalisti che magari scrivevano, scrivono ancora sulle riviste, magari provano a digitalizzarsi un po', ma magari non ce la fanno e non riescono ad attrarre il pubblico che invece arriva praticamente davanti a tutti questi influencer, di fronte a tutti questi comunicatori nuovi del digitale, che sono partiti magari da zero, da una passione, nel senso senza doversi rifare a riviste importanti, eccetera. Magari senza anche dover aver scritto 5 milioni di articoli gratis per 97 miglia di riviste. Noi siamo abbastanza schierati. Per poi dire, ah ma io ho fatto una gavetta pazzesca, quindi te non è giusto che hai questo seguito, fate schifo, bla bla bla. È come se non ci fossero competenze, poi, dover capire come funzionano certi canali e le dinamiche sociali dietro a questi canali. Quindi volevamo sapere che cosa ne pensi un po' di questa lotta tra giornalisti, vogliamo chiamarla e wine influencer, influencer in generale del mondo food. Ecco, allora appunto, hai detto la parola giusta adesso. Il discorso è questo, una guerra già vista. Dieci anni fa era la guerra giornalisti wine blogger, poi i giornalisti hanno capito che la carta stampata stava andando alla deriva, sono diventati egli stessi wine blogger, salvo poi scontrarsi oggi con il successo dei wine influencer su Instagram. Bene, io sono per gli influencer, perché se l'influencer è serio e ne ho conosciuti, ho avuto modo anche di assaggiare con alcuni di loro, spesso, e devo dire che non ho mai visto soltanto delle belle cartoline che erano bravi sui social, ma soprattutto ho visto che c'è della competenza. Cioè, ben venga chi ci racconta il vino dicendo oh, guarda che figo sto vino se me lo bevo tra le vigne, se me lo bevo in piscina, soprattutto appunto piscina, pool wine, l'altro mio progetto. Sì, perché dovete sapere che Vincenzo ha un progetto, anche lui di comunicazione con suo fratello, giusto? Esatto, sì. Con Mauro. Un po' fermo quest'anno a causa del libro e della pandemia, appena tutto sarà passato mi licenzio e farò un anno solo in piscina. Che bello! Possiamo essere altri ospiti qualche giorno? Certo! Quando saranno finite le risorse vedrò cosa fare. E quindi il discorso è questo, no? E' una comunicazione più d'impatto, piuttosto di quello che ti dice senti sto vino come sa, di questo, di quello io gli do 96 centesimi. Perdonatemi, ma che due palle, cioè. Oh, finalmente, non se ne può più, no? Infatti... Però è una figata, eh? Cioè, qui abbiamo un somigliere della Madonna che sposa pieno il nostro progetto, il nostro modo di comunicare, è una figata passiva. Diciamo che io sono trasversale, no? Sono anni che collaboro con The Canter e con il Vini Italy per i concorsi enologici. Ma infatti... So cosa significa valutare un vino per dargli un punteggio, ma allo stesso tempo so cosa significa valutare un vino per godere. Oh, vedi? Che poi, cioè, alla fine... Cioè, esatto, amen. C'è proprio questa via di mezzo che permette di arrivare da una parte a un pubblico più ampio che poi magari si appassiona e va a finire su The Canter, no? Esatto. Per dire, eh? No? E poi magari c'è un pubblico che vuole rimanere solo su determinati metodi di comunicazione, però crea, quello che noi l'abbiamo visto anche un po' quando facevamo i corsi ICE, queste barriere all'entrata e questo senso di esclusività mascherato poi invece da comunicazione del vino. E a me questa cosa mi è sempre data sui nervi perché se tu vuoi far crescere anche un'associazione, quindi proprio per mero scopo economico, non lo puoi fare perché semplicemente non lo vuoi fare. Beh, ma infatti basta vedere la situazione attuale delle associazioni in Italia. Ecco. Siamo alla deriva, l'unico Stato forse ad avere 7, 8, 9 associazioni sommelier, ma soprattutto dove non c'è una tutela vera della figura, perché non parliamo di associazioni che tutelano la figura del sommelier, parliamo di associazioni che ormai si sono lanciate in un mondo di marketing, merchandising per poter sopravvivere. Io vengo da Mamma ICE, ma in questo momento non sono in nessuna associazione perché non mi vedo riconosciuto. Ma esattamente. Cioè vedo più riconosciuto il mio ruolo, il ruolo di qualcuno che parla del vino, dai social, piuttosto che da quelle che sono state le associazioni che hanno formato la gran parte dei sommelier in Italia. Questo è, guarda, lo condividiamo al massimo, io stesso sto prendendo proprio questo percorso anche qui perché penso proprio che sia necessario andare oltre semplici dogmi imposti. E soprattutto quello che hai detto prima sull'esclusività, no? Magari una volta poteva essere così perché determinate bottiglie non si trovavano e quindi bisognava essere agli eventi, pagare la degustazione. Oggi anche il successo, cioè il parziale successo, perché appena partito in Italia, degli e-commerce del vino ha fatto sì che anche bottiglie che prima erano irreperibili e proposte a dei prezzi assurdi si trovano magari comunque a dei prezzi ancora importanti, ma accessibili ai più. Accessibili ai più? Se ti vuoi svegliare una mattina e cercarci una bottiglia di Sassicaia, oggi la trovi. Una volta era tutto, ah no, guarda, l'Enoteca, no, c'ho i miei clienti storici, non te la posso dare, eccetera, eccetera. Quindi c'è, è che sta cambiando anche questo fortunatamente. Ma fortunatamente sì, perché alla fine, esatto, come hai detto bene te, c'è questa barriera del prezzo che chiaramente deve essere superata, ma voglio dire, se uno vuole fare una degustazione di quel tipo, si organizza in quattro, in cinque, ne assaggerai un poco più di un bicchiere, però intanto ti sei assaggiato una delle chicche enologiche, magari italiane, come puoi farlo con certi vini della Borgogna, che comunque ci sono cantine, che tu magari mi confermi o no. Cioè, anche per partire dal vino, adesso magari consideriamolo base, comunque il vino magari non più di, non di elevatissimo, no, invecchiamento, maturazione, comunque io ho visto, ho trovato cantine che spendi anche su 50 euro, adesso per fare qualche città. Sì, no, assolutamente, la Borgogna, allora, la Borgogna in questo momento è messa così, ci sono i grandi, una volta i grandi magari erano cinque, oggi i grandi purtroppo sono diventati magari cinque, cioè, purtroppo perché non si possono più comprare, meglio perché c'è veramente tantissima roba da urlo, però sono diventati 50 gli incomprabili in Borgogna oggi. Però ci sono ancora tante realtà molto interessanti, piccole, ci sono giovani vigneroni che hanno cominciato da poco, dove si compra bene e si beve alla grandissima. E un altro consiglio, se andate in Borgogna, andateci e organizzate un bel pulmino, quando si potrà, perché bisogna essere almeno in 8-10, c'è un posto che si chiama Les Soufflots, a Morseau, che ha i ricarichi sul vino a zero, quindi se andate lì e vi sedete, trovate il Borgogna di Cochiduri, introvabile da noi, a 55 euro a tavola, e quindi quello è un posto dove appunto si può fare cultura, nel senso che vi stappate le bottiglie alla Madonna e vi assaggiate qualcosa che da noi non si trova. Ripeti un attimo il posto? Les Soufflots, è un ristorante sulla statale a Morseau, aperto da un paio d'anni, fanno cucina gastronomica, un solo menù, oltretutto proposto a un prezzo onestissimo, perché sono 6 piatti a 55 euro, vi aggiungete un pezzettino di comte, però bisogna essere in tanti, perché bisogna stappare tanto. Oppure si va in due una settimana a pranzo e cena tutti i giorni. Avere una miglia di tre bottiglie a pasto, così dai... Allora io ci ho portato i miei ragazzi, venivamo da una giornata importante con quattro cantine, quindi non abbiamo bevuto proprio tanto tanto, perché abbiamo fatto sette bottiglie in nove. Di fianco a noi c'era un tavolo di tedeschi in quattro che ne hanno fatte nove. Cioè un po' mi vergognavo, perché conoscendoci potevamo dare di più, però eravamo veramente stanti. Però venivate già da un bel tour de force, da un bel tasso alcolico insomma. Sì, diciamo che anche se vuoi sputare è inutile. Poi soprattutto quando assaggi delle batterie da produttori importanti, l'ultima cosa che vuoi fare è sputare. Quindi l'abbiamo sentita. Ad esempio noi eravamo in cantina, infatti ci hanno dato la sputacchiera, la cantina che c'è che ho consigliato a te. Adesso non facciamo nomi, perché... Ma dopo lo facciamo. Dopo lo facciamo, perché ne beviamo buono. Però anche loro, no? Ci hanno dato la sputacchiera e noi li abbiamo guardati. No, guarda, noi di solito, insomma, se è come penso, non siamo soliti sputare. Infatti poi l'abbiamo portata via ed è finita lì, insomma, la questione sputacchiera. Sì, dopo un po' infatti gli ultimi vini che abbiamo assaggiato non ci capivamo più niente. Sì, è un peccato perché alla fine ci ha fatto sentire tutti i vari crew di Barolo. La sfumatura l'abbiamo capita almeno, però adesso vabbè, ce le siamo comprate, ce le riassaggiamo. Eh, la prossima volta, una volta che chiedete la visita, dovete già avvisare che bisogna partire dai crew e poi scendere. Esatto, scendiamo dopo, perché altrimenti qua in salita a un certo punto stavamo scalando l'Everest. Allora, ritornando un attimo a questione libro, questione, diciamo, appunto, accoglienza, eccetera. Allora, dentro l'Everest sono nota, è un dizionario di fatto, quindi ci sono ogni, praticamente, c'è ogni lettera, spiega alcune parole e la cosa figa, secondo me, è proprio che ognuna si lega all'altra, benissimo, e spiega veramente tutto quello che c'è dietro a livello proprio di amore. E già la parola amore lì dentro, la scheda di amore, spiega già che cosa significhi dover fare questo lavoro. Cioè che non... Se ti fermo, cosa significa? Voler fare questo lavoro. Voler fare questo lavoro, esatto, perché proprio tu dici, a un certo punto la passione... Non basta, non basta. È come una relazione sentimentale, la passione serve all'inizio, poi ti devi innamorare di questo lavoro, ti devi innamorare del servizio, ti devi innamorare di essere un gregario. Cioè, naturalmente, se un giorno diventi titolare di un ristorante è così, io vedo nel mio caso, il ristorante è della famiglia Ciretto e di Enrico Crippa, io sono il gregario di Enrico, io sono il suo braccio destro, ma allo stesso tempo devo essere in grado di capire che non potrò e non dovrò mai scavalcarlo. Cioè non... È una cosa da metabolizzare questa, cioè devi essere veramente bravo a capire quando è il momento di non scavalcare nessuno. E questo già è un messaggio di maturità, è proprio come hai detto bene, una relazione amorosa, no? Dove ci si innamora quasi anche dei difetti, o meglio, si riesce ad andare oltre proprio perché c'è un amore che è talmente incondizionato, no? Che non è semplicemente spinto da un impulso sessuale, se fosse per una donna. Esatto. In questo caso, no? È proprio amore per il lavoro. A poi ci sono parole tipo adrenalina, disagio, stress, tenacia, cioè tutte parole che parlano di... Tutto quello che nel nostro lavoro non si può toccare. Questa è stata l'idea del libro. Dare definizione a tutto quello che non si può toccare. Quello che si può toccare è stato tutto definito. Dal servizio, ai metodi di servizio, a come trinciare un'anatra, eccetera, eccetera. Però sono cose che in un ristorante si fanno allo 0,2% oggi. Nel ristorante oggi si fa molto altro. Si conquista il cliente. E io dico anche spesso ai miei ragazzi una frase molto hard. Nel senso, se siete in grado appunto di conquistare una donna dovete scopare il cliente nel cervello. Bellissimo. Quando riesci a far quello hai centrato il punto. Questo è la tatua. No, questo qua è bellissimo. È come veramente sedurre una donna. Di più forse, perché comunque... Anche perché comunque... Non c'è... Ultimamente, no? Cioè, c'è stata una grande ascesa negli ultimi dieci anni, no? Degli chef, grazie anche ai programmi televisivi. Però in questi ultimissimi anni si comincia finalmente a capire anche qual è l'importanza, a parer mio, fondamentale della sala. Ad alti e bassi però, ti faccio un esempio. Durante il lockdown, tutti pronti, la sala sarà importante, la sala di qui, la sala di là, interviste ai metri, interviste ai sommelier, interviste ai camerieri giovani, i primi due mesi dopo l'apertura, la sala è importante, va, 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 va. E adesso? Provate a girarvi su un sito di gastronomia, un blog, non c'è mezza parola. Siamo ancora ad un livello mediatico basso. Ci vorrebbe una sorta di master metro forse. Esatto, esatto. Mi candido. Master metro, ma sai che... Ci vorrebbe comunque il modo di sdoganare questo lavoro agli occhi del grande pubblico. Finché non accadrà, a me è stato proposto anni fa un programma che non parlava direttamente di ristorazione. Oggi, soprattutto, devo ringraziare Enrico che mi aveva consigliato di valutare bene il progetto. Ringrazio Dio di non averlo fatto perché è diventata una caricatura di quello che potrebbe essere. Però mi auguro che si ponga veramente l'attenzione un po' più marcatamente su questo lavoro. Ma anche perché comunque, e adesso ho notato anche negli ultimi anni, c'è sempre più gente comune magari che apprezza l'alta cucina. Quindi diciamo che il pubblico è più ampio rispetto magari a qualche anno fa dove c'erano magari solo quelle persone comunque che avevano più disponibilità economica. Adesso un po' tanti apprezzano noi stessi. Alla fine siamo due persone normalissime che fanno un lavoro normalissimo. Però ci piace magari andare a ristoranti gourmet piuttosto che stellati, insomma. E quindi amplificandosi il pubblico si amplifica anche il numero di persone che riesce a comprendere di più quanto effettivamente un'esperienza di ristorante non è solo il piatto. Perché poi se il piatto a me arriva uno e me lo tira, già il piatto non è più buono. Esatto, c'è una massima che farà sempre la differenza, nel senso una grande sala può salvare una cucina mediocre. Una sala mediocre non potrà mai salvare una grandissima cucina. Sono perfettamente d'accordo. Perché comunque il primo impatto e l'ultimo dei saluti lo fai con la sala. Lo fai con la sala. L'esperienza la vivi con la sala. Poi naturalmente il piatto, la cucina fa la differenza perché ci sono sfumature, c'è studio, c'è ricerca. Però allo stesso tempo, come hai detto tu, se io buttassi a tavola i piatti di Enrico non saremmo qui a parlare di servizio e di Vincenzo Donatiello. No, perché appunto comunque l'esperienza di un ristorante la vivi con i ragazzi di sala. Esatto. Giustamente lo chef è in cucina che cucina, poi magari esce per i saluti, queste cose che si fanno. Però alla fine la tua esperienza, che può essere un percorso di due o tre ore immagino, un ristorante come da voi, come il vostro. Quindi un'esperienza di due o tre ore, stare due o tre ore a contatto con la sala, è lì che ti senti bene, ti senti a tuo agio e ti godi la giornata. Perché poi i piatti possono essere buoni quanto vuoi, ma se non stai bene, anche nel tuo dizionario moderno per camerieri c'è la parola disagio. Se sei a disagio, può essere la roba più buona del mondo, ma in verità puoi andare via, perché non stai bene, non sei tranquillo, non te la godi. Soprattutto se nella sala ti passa disagio, che tu dici è proprio vietato, nel senso vietato far passare una sensazione negativa. Non può, non ci deve essere. Non ci deve essere. Comunque per quanto riguarda quel tipo di carne Enrico cuoce in padella, non usa il termometro, ma va alla vecchia scuola. Quindi quando non c'è più sangue, ha una sorta di spiedino, quando non c'è più sangue per lui è pronta. E lui continuava a dire, mi chiama, no, io voglio sapere la temperatura. E gli ho detto, guarda, la temperatura già la so dire, perché non la prendiamo. C'è qualche problema? Eh sì, a me la cottura non piace. E poi scherzando gli ho detto, non mi potevi dire prima. Comunque parlo col cliente, cerco di capire come vuole la cottura, la voglio guardare un pelino più indietro. Perfetto, via l'agnello, vado in cucina, chiedo a dirvi un altro agnello con una cottura, un filo, filo, filo a point. Al punto, quindi. Esatto, gli riporto l'agnello a tavola, intanto gli offro anche un calice di rosso in più rispetto a quello che stava bevendo. E lui continuava a bofonchiare. Allora l'ho guardato e gli ho detto, senta, noi siamo qua per lei, per voi. Ho detto, gli abbiamo rifatto la carne, abbiamo chiacchierato, abbiamo rifatto la carne, gli ho offerto anche un bicchiere di vino. Adesso faccia qualcosa lei per me. Esatto. Lui mi ha guardato, what, smile, sorridi. E questa è la copertina. Questa è la copertina del libro. Me la sono giocata sul filo del rasoio, una situazione difficilissima, è diventata poi invece una situazione strepitosa, perché la signora mi guarda e dice, vedrai che sorride, dopo qualche minuto mi ha chiamato, mi ha ringraziato tantissimo, prima di andare via mi ha lasciato il suo bigliettino da visita e lì ho capito perché voleva la temperatura della carne. Veniva un dal Texas e lui era il proprietario di una catena di steakhouse. Ah, ecco. Ho capito. Ma normalmente gli americani so che mangiano la carne, no? Tutta un po' più a temperatura più alta, no? Ma no, dipende, cioè tendenzialmente hanno più cotture di noi. Eh, più cotture sì. Cioè se da noi esiste la cottura al punto, quindi comunque ancora con una punta di sangue media e ben cotta, loro hanno molto più sfumature, perché si va dal rare al medium rare al medium, medium well, well done, eccetera, eccetera. Sì, 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 fino ad arrivare a quella con la più a sangue, la blu. Sì, esatto. Prima ancora sì, la blu, vabbè che poi praticamente è cruda. È come ti fanno un po' la fiorentina e i toscani, alta così, fuori bruciata, dentro fredda. Ma deve, però per esempio io adoro la, per me la carne quando inserisco il coltello deve muggire ancora. No, vada, parli con due che... Parli con gente che mangia le mucche a morsi, quindi, invece i vegani si cazzano, ma ce ne faremo una ragione. La carne stracotta, anche se fosse ipermarezzata, è una perdita. No, assolutamente. Diventa una soletta, tipo quella che abbiamo mangiato altasera. Bunnesma, bunnesma, andate un po'. Dopo ti raccontiamo. Ma in Langa? Sì, no, ma è stata una cosa molto sfortunata, ecco, dopo. Parliamo dopo, con calma, fuori dai microfoni. È stata ripagata dalle serate che abbiamo fatto ieri, dal pranzo e dalla... Dagli altri pasti che abbiamo fatto questi giorni. Esatto, esatto. Oh, ferma, 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 ferma. È un ospite del genere, mica ce lo possiamo giocare tutti in una puntata, cazzo. Se volete ascoltare tutto il resto dell'intervista, bisogna che mettete like alla pagina Facebook in Vino Veritas, attivate le notifiche e aspettate che esca la seconda parte.